FAN Bertra per favore fai dei video costanti Bertra Ok faccio i video costanti Non li fa FAN Sono veramente simpatico lo so Ciao a tutti ragazzi sono Bertra e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo qua con i memotti Non ne facevo da un bel po' quindi ho deciso di prendere i tre meme E mi hanno convinto di più di questo periodo E di metterli in un video schiacciandoli così Quindi mi raccomando arriviamo a 5000 mi piace per altri meme Consigliatemi qui sotto e partiamo subito Il primo meme di oggi è Pikachu che fa È bellissimo a me piace tantissimo perché non so far ridere Excel sono utile per fare spreadsheet e calcoli Io uso Excel per fare un meme Excel Comunque lo sbatti per fare questo Pikachu secondo me è oltre la scala del non ho voglia di farlo E non ha senso farlo però grazie per questo contenuto di qualità Madre mi rifiuto di vaccinare mio figlio Bambino prende la poliomelite La madre Oh Ricordate sempre che le antivaccinizze sono quelle madri che avrebbero voluto abortire Ma non ce l'hanno fatta e quindi pensano di abortire più tardi Grandissimi Nice guy Apre la porta a una ragazza Ragazza non gli succhia il cazzo Nice guy Questo è per tutti voi redpillati che dicono Ah sì io se sono così gentile le ragazze mi friazionano tutte Non funziona così la vita non è che se siete gentili allora un automaticamente deve darvela Aborti Fatevi una vita andate in palestra Pesate meno di 800 kg e siate veramente delle persone gentili non che una volta che uno non ve la da diventa Troia Zoccolo infame La gente che non sa stare al mondo Bambino di due anni Le verdure fanno schifo e non c'è nessun modo in cui tu riesca a farmele mangiare Mamma Ecco che arriva l'aeroplano Bambino di due anni Beh ha funzionato con tutti Ora il trenino era l'aeroplano Qualcosa ci ha fatto mangiare qualcosa che non volevamo Sempre funzionato Comunque ragazzi come vedete ho una maglietta molto figa addosso Mi sono cambiato durante il video Mi raccomando avete solo 4 giorni per prenderle Io ve la consiglio perché vi assicuro è bellissima Sia da toccare che da sentire e il disegno è in altissima qualità Pensateci Teenager nei film horror Vanno in un posto abbandonato dove molte persone sono sparite barra sono state uccise Assassino Compari inizia a ucciderli Teenager Qui non c'è solo Pikachu ci sono proprio tutti È una festa Magikarp è il più bello Magikarp è il personaggio inutile Quello che muore subito e non si sa effettivamente perché sia lì Pasplash Femminista Odio gli uomini Uomo Odio le donne Femminista Per favore prima che qualcuno commenti dice Ah maschilista Allora basta È una battuta Basta Però fa ridere Gatto Dovrei camminare tra le gambe del mio umano quando stanno camminando Viene calpestato casualmente Gatto Poverini Sì i gatti sono ritardati Oh sì cosa succede se mi metto sotto il piede di questo qua Mmm non me l'aspettavo Quando ti perdi in piazza i cerchi Ash gridando il suo nome ma dei loschi figuri ti rifilano del fumo Il senso ha questa cosa Vabbè Pikachu nuota l'erba Oh oh Ma perché? Mamma antivax Non vaccina il figlio Bambino muore Madre Questa è la versione ancora peggio di quello di prima Fidanzata Non farò sesso col mio ragazzo per mesi Fidanzato La tradisce Ragazza Immagine Metti mi piace a questa immagine per morire istantaneamente Io Metto mi piace all'immagine Io Non muoio Io Quel momento di tristezza mista disappunto quando non succede quello che vuoi Cazzo Bene questo era il primo meme Passiamo al secondo che è Kowalski Analisi Probabilmente in italiano è rapporto però analisi è più bello Partiamo col botto con Kowalski Analisis Wall Muro Capitan a casa Però è bella Cioè devo dire che vorrei una casa con la faccia di skipper così Voto sì Kowalski Anal La faccia di Kowalski tipo no 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 Ok Mi fido È molto molto disturbante Quando sei dell'Alabama Anal Sis La sorella è sempre la sorella ragazzi Non so perché io abbia detto questa frase È orribile Fate finta di niente Quando installi adblock ma tutte le fighette single della tua zona spariscono Kowalski Analisi Dove sono finite tutte Quando qualcuno dice che la risata genera dieci volte più potenza degli urli Wachowski Analisi Wachowski Wachowski Come cazzo si chiama quella palla di merda Non lo so Comunque è bello questo crossover Apprezzo Quando hai distrutto i tuoi reni con l'alcolismo Kowalski Dialisi Ed è anche giallo Complimenti Bello Ben ben pensato Ehi bambini Aiutereste Kowalski ad analizzare il problema Primo problema Il numero della carta di credito di tua madre Secondo problema I tre numerini sul dietro della carta di credito Terzo problema La data di scadenza a mese e anno Aiuta Kowalski a prendere del fighissimo Fortnite swag Sarebbe da vedere se funziona Fatelo anche voi nei commenti Kowalski Fammi indovinare Analisi Però Kowalski ormai non ce la farà più Tutto il giorno Tutti i giorni Ventimila volte al giorno Analisi 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 Anch'io diventerai scemo So che questo era del meme di prima Però che cazzo è questo Wow In chat globale Go A In chat di squadra Go B Kowalski Analisi Questi troll su CS sono la base Proprio dell'universo La base Quando le chiedi come mai è incazzata E lei ti risponde Lo sai perché Io Kowalski Analisi Sappiamo quando succede Sappiamo che siamo fottuti Quindi non c'è molto da fare in quei casi Bisogna mettere una croce e ammazzarsi Kowalski Paralisis Poverino No Povero Kowalski Che fine terribile Kowalski Analisi Quel Magnemite si sta divertendo tantissimo E voi non avete idea Dai il permesso al calendario Di accedere al tuo calendario Kowalski Analisi Basta d'ora in poi In risposta al Adesso controlliamo Ci sarà il Bertra Analisi Oh no PewDiePie sta per essere preso da T-Ceries Kowalski Analisi Esattamente 36 ore rimanenti signore No PewDiePie no Cosa ti hanno fatto Quando scopri di essere gay Kowalski Anal Perché Ognuno è suo Ho appena scoperto che il mio compleanno È lo stesso giorno di quando sono nato La vita è pazza Kowalski Analisi Non si può analizzare un ritardo mentale Così mi dispiace Cioè proprio non puoi Come cercare di contare i peli del culo di un babbuino Sei fregato dall'inizio Sono punk quindi devo ribellarmi Sono asiatica quindi deve piacermi la matematica Mi coloro i capelli di colori pazzi Quindi devo cercare attenzioni Sono Kowalski quindi devo fare analisi Sì Kowalski hai un lavoro nella vita Pinguino di merda Di la battuta skipper Kowalski analisi Bullizzatissimi Vedi è lì che tutti i problemi sono iniziati Quel sorriso Quel maledetto sorriso Trovatemi una donna che resista a Kowalski Scusate cioè va bene tutto ma Analisi Quack Questo è il più bello finora Quack Quando stai facendo un esame della prostata Hai vedi entrambe le mani del dottore Sulle tue spalle Kowalski analisi Allora ragazzi c'è un problema Quando succedono ste cose C'è davvero un problema Onychan sono maggiore erne Ho vent'anni Kowalski analisi Ci crediamo tutti Sì sì anch'io Io ne ho 40 di anni ragazzi Non lo sapevate ma Quando controlli il tuo meme di Kowalski Ogni 0,34 secondi Per vedere se è ancora vivo Kowalski Status report Quanto sono belli i pinguini di Madagascar Mi mancavano Fammi indovinare Analisi L'impiccato Sì Perché c'è il corpo di Thanos su Skipper Cos'è sta roba Cosa succede Chiudiamo adesso con l'ultimo meme Ne ho di meno perché è più raro Ma è comunque bello Il meme del Mom can you give me money for burger Se non lo conoscete siete dei polli Mamma puoi darmi i soldi per l'hamburger Per comprare l'hamburger Sì In realtà compra eroina Come un boss È orribile Poi è tutto deep fried otto volte Oddio Mamma puoi darmi i soldi per il cibo Per il cibo Sì In realtà compra una lampada come un boss Lamp time I most meme fanno ancora un po' ridere Nei momenti giusti E questo crossover per me Eh sì Mamma puoi darmi i soldi per l'hamburger Per comprare l'hamburger Sì In realtà compra l'hamburger come un bravo ragazzo Burger time Con pure la dabbina Ma questo è l'originale se non sbaglio Mamma puoi darmi i soldi per l'hamburger Per comprare l'hamburger Sì In realtà compra la zuppa come un boss Zuppa time Questo è uno dei più stupidi Posso avere del sole per crescere alto Sì In realtà fai il grano come un boss Bread time Ragazzi con questo chiudo Mi raccomando Se volete un bel video time Lasciate tanti like Come dei boss Iscrivetevi Commentate Cliccate sulla campanella Passate i social Per Varvi i cazzi miei Per il video di oggi è tutto Un saluto alberto E ci si becca al prossimo video Bella lì E ci si becca al prossimo video Chlossky Chlossky Analysis Chlossky Analysis Chlossky